Scusa, sennò è inutile. Sei strato? Due? Due giubetti? Non c'è nessun pezzo di metallo... ...eppure? Due! Due 1 mace. Tu hai� di luce? Esatto! Non l'ho fatta l'alto. La cosa è che si appoggia. ... Così? ...E un pezzo di strada. E un pezzo di strada. E un pezzo di tocco... ...e un pezzo di dolore... Grazie.